Benvenuti in un altro video, buon Halloween a tutti, mi dispiace che quest'anno non si possa andare a fare Halloween in giro Comunque mi chiederete da cosa ti sei vestito, cioè ma sarebbe veramente chiedere da cosa mi sono vestito Cioè veramente cosa, cioè io in tutti gli anni di Halloween quando vado a fare dolcetto scherzetto che bussa E io faccio dolcetto scherzetto e mi fanno ma scusa da cosa ti sei vestito Io ho due minuti a guardare così Cioè ma tu non lo noti, non lo noti, cioè tu se non ci fosse la luce davanti a casa tua e io bussasse Tu cosa vedresti? Denti bianchi Vuol dire che io non serve quando do a spendere soldi per comprare i vestiti, cioè il vestito se io sono già vestito da come sono Stop razzismo e non serve, perché è razzismo chiedere a uno che ti viene a bussare cosa ti sei vestito sapendo già che hai già vestito Quindi se non ci fosse la luce davanti a casa tua, cioè io sarei già vestito Quindi se mi chiedete cosa sono vestito, sono vestito da nero Quindi il mio superpotere è quello di sparire nel buio Quindi quello di, cioè se tu sei lì, io sono qui, tu non mi vedi perché sparisco dal nulla Quindi banale a tutti, volevano anche a Tasso Primo che ci ha regalato una cosa che non lo so, cosa sarà Però andiamo a guardare, però fa sempre paura a Tasso Primo Quindi sorpresa, so sorpresa, usciva alle 3, io all'3 lo saluto qui e ho detto Oh, quando Tasso Primo fa qualcosa io faccio views, quindi non devo perdermi le cose di Tasso Primo Perché Tasso Primo è quello che mi ha fatto crescere il canale Quindi continuiamo così e ringraziamo Tasso Primo per questo regalo che ci sta facendo Quindi scrivete sotto il commento cosa siete vestiti voi Perché il mio vestito non serve neanche chiedere perché Io sono vestito da me stesso, io sono vestito dalla realtà e da me stesso Il mio vestito è quello addosso Dai, Tasso Primo è Coraline in Love Coraline Coraline Sapete che Tasso Primo è strano Quindi la sua stranezza è sempre più alta Anzi, vediamo una cosa Bisogna che è un vocale, però Non lo so, Tasso Primo, Tasso Primo è il mio Tasso Primo Sempre nuove cose ci regala Tasso Primo Dai, ascoltiamo È un audio, cioè, quindi non sai da chi vedere i video Ah, ok, capito, capito Capito, capito È uno dei suoi beat Ma cos'è, ma cos'è Dove ho detto che sorpresa, 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 sorpresa Ce ne abbiamo di Tasso Primo Tasso Primo è come Drake Se fa qualcosa È una hit Ho qualcosa che tu non te lo aspetti Ma comunque è una hit Quindi io descrivo Tasso Primo come Drake Ovviamente le qualità di Tasso Primo ci sono per arrivare a livello di Drake Perché il video è uscito da 5 minuti Sono già 18.000 visualizzati Se ha ragione la pagina siamo già 30.000 Quindi ragazzi Sapete che Tasso Primo è livello di Drake Ci arriva Ci sono un po' di vocale Lo so che sono l'unico nero che piace questa roba Se fa ascoltare questa roba a un nero ti dirà Oh my god Nero, ma sei veramente nero Ti, 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 ti controlla per tutto Ma sei veramente nero Io sono nero dentro, nero fuori Nero qua, nero qua, nero qua È buona Halloween a tutti comunque Eh, se tu ascoli bene, ci sono i vocal È un beat con vocal È un beat con vocal Siccome il Tasso Primo ieri sera non so mai cosa fare L'ha detto, bah dai Cosa, facciamo un beat, domani lo pubblichiamo Eh, è un genio Ragazzi, arriviamo a mille visualizzazioni dentro 24 ore Io scrivo a Tasso Primo in direct Se posso usare i beat, ovviamente non mi risponderà Ma faccio lo stesso Farò una canzone su questo beat Un remix Proprio con la mia voce Vocale Vocal Vocal song Su this beat di Tasso Primo Che comunque è una roba assurda Comunque rappare su questo beat Ci vuole tempo C-c-c-c-corona Cioè io invece di Coraline Io dirò Corona Andato per cambiare lo stile Cioè dobbiamo cambiare lo stile Dobbiamo essere a Tasso Primo Probabilmente Tasso Primo ha detto Che io paragono Tasso Primo a Drake Per Forse per Per quello che ha portato in Italia Per quello che sta facendo Tasso Primo Proprio Perché Tasso Primo è Tasso Primo Grazie a Tasso Primo ho fatto 200 Qualcosa Cioè io Un video di Tasso Primo 8000 Grazie a quel video ho fatto tipo Un quarto dei miei iscritti Ancora sta crescendo Quindi Tasso Primo pubblica Più roba E io ti bacerai sempre il piede Ovviamente per un frammoli Non so perché l'ho detto E ditemi voi cosa ne pensate Ovviamente Non venite qua a ascoltare Non venite qua a pensare di ascoltare una canzone Ma ascoltare un beat Non è proprio un beat È un beat song Io lo chiamo Bitsung 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 Ovviamente Beatcats 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 Perché Canzone e beat Quindi Beatcats Iscrivete al mio canale E Sapete una cosa Se facciamo un gioco Se tagliamo il tasso Primo Chiedendogli che posso usare la beat Probabilmente Con gli iscritti che ho io Non ci arrivano neanche a questo punto del video Ma non te cagare Se siete tutti dei figli Se siete tutti dei figli Ok capito Dai basta Ok capito Grazie a tutti.